Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video del venerdì con sottofondo sempre dei miei coco allora iniziamo subito dicendovi che ho spesso 11 euro e questo è quello che ho comprato poca roba rispetto alla settimana scorsa perché ho ancora delle cosine da consumare quindi preferisco andare per gradi quindi consumare quello che ho ancora a casa e nel frattempo rifornire il frigorifero allora iniziamo subito da questo broccolo siciliano con la quale ci farò la pasta solo tre zucchine perché ancora ne ho un paio in frigo e che consumerò penso già oggi stesso poi tre mazzi di questi cavoli trunzi sono cavoli nostrani di AC catena credo se non ricordo male come vedete sono belli cicciotti rispetto a quelli che solitamente ho comprato tre mazzi di questi due euro e quindi bella scorta anche di questi cavoli che adesso poi verranno puliti e porzionati poi ho preso banane come vedete di due diversi gradi di maturazione queste che sono molto più mature e queste che invece sono ancora più verdi quindi sicuramente saranno consumate prima queste e poi un bel porro cicciotto ma bello cicciotto davvero e poi ho preso un chiletto di cipolle che avevo completamente terminato e infine un chiletto ma credo che siano venuti un po' di più non ricordo di peperoni queste adesso andrò a farci subito una peperonata che sono semplicemente peperoni e patate nient'altro e questa quindi è la spesina fatta oggi proprio velocissima da farvi vedere ne approfitto per qualche altro minuto per chiedervi come state tutto bene in questo periodo è già un grosso guadagno comunque sia io sono attenta e preoccupata penso quanto tutti voi per questa situazione che c'è al momento restiamo uniti e vicini in questo momento teniamoci per mano anche se non possiamo tenerci per mano ecco ma virtualmente teniamoci per mano un abbraccio caloroso a tutti quanti niente questo video finisce così in maniera breve ma è giusto per stare in compagnia in questo momento teniamo duro un bacio a tutti ciao